Il Forum dei Giovani di Agropoli, il 31 luglio, ha accolto ben 50 ragazzi provenienti da diversi paesi europei, che hanno alloggiato per tre giorni nella città. L'Associazione Europea EGE di Salerno, che si occupa di scambio interculturale a livello europeo, ha collaborato con il Forum dei Giovani, con il supporto dell'amministrazione comunale, per la realizzazione del progetto Benvenuti al Sud. L'Associazione ogni anno organizza un famoso evento, la Summer University, che consiste nell'ospitare 50 ragazzi europei per due settimane. Quest'anno le tappe scelte dall'EGE sono state Salerno, Marina di Camerota, Agropoli, Vietri sul mare e Amalfi. I ragazzi giunti ad Agropoli hanno avuto la possibilità di visitare già in serata il centro storico della città e nella mattina del 1 agosto, dopo aver fatto trekking a Trentova, hanno potuto apprezzare l'acqua cristallina del vallone grazie ad un bel bagno rigenerante. I ragazzi porteranno nel resto d'Europa i colori, i profumi e i sapori di Agropoli e del Cilento. Gli organizzatori hanno dichiarato Abbiamo sposato sin da subito questo progetto, poiché crediamo che sia una bella occasione per promuovere il nostro territorio, oltre i confini nazionali, e auspichiamo che possa diventare un piacevole appuntamento ogni stagione estiva.